Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel canale di Saints Game 8 Come vedete al nostro bellissimo personaggio ho cambiato capelli E' più... bello Ah eppure la barba gli ho cambiato prima era... non avevo una barvazza così Eh non si vede aspetta Vabbè si vede così Ok andiamo a fare... andiamo a fare... Ah la missione dei Ronin Asci che mi prendo questa macchina Che io non ho il garage mio non ne ho Radio di merda cacciati Madonna che macchina veloce No dove sto andando Dove sto andando E dai palo Parcheggiamo Benissimo Andiamo a fare la missioncina dei Ronin Is it the Saints? What's up with the dollhouse? Dollhouse my ass This is how we gonna fuck up the Ronin This'll be good Psst trust me It is The Ronin have a stake in Poseidon's palace So I figure hitting their biggest money maker is a good way to show them we not fucking around Ok so what's the plan? You and I enter the casino here Once inside we need to distract this security guard I was thinking you could catch me cheating or some shit like that Anyway while the guards concerned with throwing me out Gatto sneak in through this security door Don't worry I already got today's passcode from the blackjack dealer Shandy's fucking Now once inside Gatto had to sneak past the guards to cut the power And when that happens we only have about 45 seconds before the backup generator turns on During the blackout though Hold up man I mean I love the dream house you built here and everything But what if we just start here Walk into the casino And just shoot all the motherfuckers that are between us and the money Well you know It will be a lot faster And a lot more fun Yeah but Fuck it let's go Good call Johnny Benissimo Vai al casino Prendiamo questa macchina che credo che dovrebbe essere più veloce Vieni Gatto Muoviti E la radio però non la voglio Dai 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 Andiamo di qua Andiamo di là Andiamo di su Andiamo di giù Basta Guarda che Andiamo in odo Quanto è lunga questa strada Quanto è lunga questa strada Dai 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 No no lo voglio il controllo cruciera Oh ce l'ho Si c'è il controllo But it doesn't change the fact that he's totally ruthless Oh I'm gonna have fun with that kid No Attenzione Attenzione Non facciamo come ho detto Nessun speed Nessun speed Voila Li potevo ammazzare quei Ronin Voila Attenzione Olè Attenzione Olè Dobbiamo girare Nessun pallo ho buttato Però ho buttato questo pallo Va bene Mannaggia Mannaggia Niki minnage Dai Oh Attenzione Ah io mi posso buttare di qua Buttiamoci di qua Buttiamoci 3, 2, 1 E Viva l'America Perché ho detto viva l'America Va bene Viva l'Italia Viva l'Italia parcheggiamoci qua io sono uscito dal kofana si dal kofana non mi ricordo ok intanto prendiamoci il fusilazza pompa ho la metraglietta 3, 2, 1 Dovete morire tutti i bastardi Dove siete? Dovete morire tutti Oh, chi mi sta sparando? Ho ammazzato pure Nostaggio Vabbè, non importa Ammazziamo tutti qua Basta che muoiono i Ronin Non me ne frega niente Non me ne frega niente Non me ne frega Dove siete? Piccoli bastardi Siete di qua? Eccoli qua Tu ti nascondi? Mori lo stesso Senza che ti nascondi Mori Mori Ciao Una bella cosa Bel granatozzo Il fucilazzo fa un pazzo, dai Mostardi venite col fucilazzo A pompaggio Le spacco tutto Vuota Dove siete? Siete di dietro Eccoli qua Morto Muerto Morto 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 Morti Tutti e due Morti Proteggi Gatt Mentre piazza l'esplosivo Signor si Lo vedo questo E dove sei Gatt? Oddio che è successo? Gatt è morto E ancora devo andare a salvarlo Come ha fatto a morire Rifacciamo Ah dobbiamo rientrare dentro Va bene Morite tutti Oddio io sparo pure a gatti Certo che poi mi muore Certo che poi mi muore qua Paz di merda Gatti Mannaggia i gatti Dovete morire tutti Mannaggia dovete morire tutti Volete capire che dovete morire tutti Dove sei? E qua? Dove siete? Morite Ah questo è Gatt Facciamoci Basta C'è qualcuno di qui Eccolo qua Morite Oddio sto sparando da Gatt Ah Gatt c'è un bel fuggilazzo a Pampazzo E come va a morire se c'è un fuggilazzo? Dai Dai Gatt Dove devi mettere l'esplosivo Ma dobbiamo mangiare qualcun'altro E mi sa che dobbiamo mangiare quel triangolino Ah dove sei? Dove sei? No Ah è sopra Eccolo qua E dai vai Muoviti Gatt C'è un bel fuggilazzo Eccolo è la 1 Mori Oddio chi è? Chi è sparato in qua? C'è qualcuno? No Va bene Olè Madonna santa Perché l'ho fatto? Dovete morire Se non l'avete capito Sto morendo io Lascia che mi mangi un bel panino Guarda se si muove sto catt Guarda I gatti di merda Non siete piccoli bastardi Ah Ah Deve mettere l'altro esplosivo Oddio mio Deve mettere l'altro esplosivo Ti voglio esplodere tutto Dove sei Gatt? Ti proteggio Ti proteggio io Ti proteggio Dove vai? Perché spari a Gatt? Muori Devi morire Devi morire anche tu Tutti dovete morire Piccoli bastardi Tutti dovete morire Dove siete Dove siete Potapom 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 Cosa? C'è la larga delle bombe Oddio Siamo alla larga delle bombe Che è successo? Non mi direi che Ah Ah basta Questo era il filmato Benissimo Riporta Non mi ricordo come fa Aisha Mannaggia la radio Ma perché C'è sembra la radio Devo andare Nelle impostazioni A vedere come si toglie La radio Staline Ma parlava Sembrava che parlava in tedesco Nella tedeschia Vai muoviti Qua ci sono I piu piu pure qua Eccoli Appena li ho nominati Si sono fatti sentire Dappertutto Dappertutto ci sono i piu piu Maledetti Piu piu Dov'è quella casa Porco di giù Ah la casa Di Di Raph Qua Dappertutto ci sono i piu Ok ora Dappertutto ci sono i piu Un po' di giù Un po' di giù Un po' di giù Un po' di giù I know you're having a hard time adjusting to the way I run things here But how about you let me deal with my father And you deal with whatever the fuck I tell you to deal with Of course Shogo Excellent Mio dio Cosa avete visto? Bene Missione dei Ronin Compiuta ragazzi Missione dei Ronin Compiuta Ora cosa abbiamo? Denaro 500 Quartieri Pensate abbiamo solo due quartieri nostri su 45 Hai abbastanza rispetto per giocare altre missioni Ok E ragazzi per questa puntata delle missioni è tutto perché non posso fare due missioni Perché sono troppe secondo me Vi faccio vedere Ah è buio e non si vede Oddio No Non a vigilarti troppo Così vabbè Prima di mentre c'è il mirino in testa come se si deve sparare Va bene ragazzi Non scollegatevi che c'è l'online Ricordate che siamo arrivati all'online 11 con questo che faccio ora Ciao ragazzi Ci vediamo nell'online di 100 Grazie a tutti Grazie a tutti